Musica Allerta di codice arancione nel territorio comunale di Arezzo dalle 20 di venerdì fino a tutta la giornata di sabato e 19 novembre. Le previsioni meteorologiche parlano infatti di piogge locali temporali. Visto lo stato di saturazione del terreno e della rete dei fossili, il maltempo potrebbe provocare disagi alla circolazione. Il vice sindaco di Arezzo Gianfrancesco Gamurrini, dopo il nubifragio che qualche settimana fa si era abbattuto sul comune di Arezzo, richiama adesso gli aretini alla massima allerta. Nelle zone a rischio si consiglia di non lasciare le auto nei semi interrati e di adottare ogni misura utile a deviare eventuali ruscellamenti. L'amministrazione comunale inoltre raccomanda ai cittadini di porre la massima attenzione e prudenza negli spostamenti, specialmente nei sottopassi e nelle zone più colpite dall'ultimo nubifragio. La stessa amministrazione comunale fanno sapere e entra l'allerta per far fronte alle eventuali situazioni di emergenza. Intanto iniziano a farsi sentire i primi disagi in città dovuti al maltempo. Nel primo pomeriggio di venerdì infatti un grosso pino è caduto in via Vittorio Veneto, schiacciando alcune macchine in sosta. Nessun ferito sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Arezzo.